Come scriverò nel titolo, Xiaomi 13 Ultra è pieno, è pieno di difetti. Nonostante tutto, almeno per me, per il mio utilizzo, è in assoluto il miglior telefono del 2023. Prima di partire, però ragazzi, importantissimo, beh, lo chiedo in ogni mio video di lasciare un like, condividere questo video, oppure lasciare un commento, tutte cose molto molto utili per me, per il mio canale e, da canto vostro, totalmente gratuite. E poi, se volete seguire tutte le varie offerte nel mondo della tecnologia, specialmente adesso che sta per arrivare il Black Friday, ragazzi, seguite il canale Telegram Dillitech. Ma iniziamo a parlare di Xiaomi 13 Ultra, che è con me da diversi mesi, lo avrete visto se mi seguite sugli altri miei account social, su Instagram e sugli altri, insomma, avete visto che spesso lo tiravo fuori e ve ne parlavo. E questa, più che una recensione specifica, è un racconto di mesi passati in sua compagnia, un telefono che, come vi ho scritto e come vi ho già detto, mi è piaciuto tantissimo e lo ritengo, a tutti gli effetti, il vero top di gamma di questo 2023. Nonostante, e lo ripeto per l'ennesima volta, abbia tanti, tanti difetti. Prima cosa, però, il design può essere, può piacere e non piacere, c'è poco da dire. A me, in realtà, è piaciuto sin da subito e questo perché mi ha ricordato i Nokia che erano dedicati alla fotografia, quei purview tanto famosi. Ecco, lui me l'ha ricordato sia per specifiche che, appunto, anche per il design. Può piacere, può non piacere, sicuramente non è un telefono aggraziato, non è qualcosa di disegnato pensando in modo proprio, proprio elegante, nonostante poi abbia questa finitura similpelle che comunque può essere tutto sommato gradevole. Bellissimo questo cerchio dorato attorno alle fotocamere che dona quella chicca di particolarità e di unicità, ma più di ogni altra cosa poi ci sono in realtà due aspetti che ci tengo a sottolineare. Il primo è che abbiano messo il bidone barrato, il C e queste cose nella cornice, lasciando quindi tutta la parte posteriore bella libera con solo la scritta Xiaomi. Un dettaglio, ma che personalmente ci tengo tantissimo sempre a sottolineare, ma sopra ogni cosa, ed è in realtà questo che volevo dirvi, è un telefono che è super, super resistente. Io per mesi l'ho utilizzato anche nelle situazioni un po' più estreme, è venuto con me in vacanza due settimane in Grecia, l'ho portato in Sicilia un mese, utilizzandolo spesso in spiaggia, al mare, e ragazzi è semplicemente perfetto, esattamente pari al nuovo, non ha il minimo striscio, non ha il minimo graffio, anche le lenti che per alcuni potevano sembrare così sporgenti, così delicate, sono perfette, segno che è un telefono che Xiaomi ha semplicemente costruito in modo eccezionale, e testato e garantito da me che vi assicuro l'ho utilizzato mesi, certo, prestandone un po' attenzione, ma non facendone drammi, no, francamente utilizzato in modo estremamente tranquillo, come si utilizzerebbe come qualsiasi altra persona, non fanatica, utilizzerebbe il suo telefono. E sotto questo punto di vista mi sento di metterlo nettamente a uno scalino superiore rispetto a tanti altri top di gamma, come potrebbe essere un Honor, che invece qualche segnetto me l'ha fatto già nell'arco di un paio di settimane, o come potrebbe essere un S23 Ultra, che anche quello si è rivelato un terminale costruito bene, per carità rifinito benissimo, ma comunque un po' delicato, per esempio il display del mio S23 Ultra, che utilizzato fino all'altro giorno, si è comunque un po' segnato, cosa che invece non è accaduta su questo Xiaomi 13 Ultra, quindi a livello di costruzione e a livello di resistenza è un telefono veramente fantastico, è certificato IP68, quindi nessun problema, ma certo si è pieno di difetti, per esempio lo spessore è importante, ben 9 mm, il peso è significativo, 227 grammi, ma soprattutto quello che è significativo è il fatto che sia un terminale molto sbilanciato, ovvero non è nemmeno particolarmente grande, se lo metto a confronto poi con un 13 Pro o anche con un iPhone 14 Pro Max, 15 Pro Max, le dimensioni sono più o meno quelle, ma è sbilanciato, c'è tutto il comparto fotocamere, naturalmente tende a rivoltarlo un po' davanti e questo può dare un po' fastidio, d'altro canto però, insomma, come vi ho già detto, probabilmente ancora nelle prime impressioni, il fatto che ci sia questo scalino nelle fotocamere permette di impugnarlo abbastanza bene, quindi di utilizzarlo tutto sommato in serenità. Ottimo poi il display, un AMOLED QHD+, 6,73 pollici, LTPO naturalmente con refresh rate variabile da 1 a 120 Hz, campionamento di frequenza al tocco 240 Hz, benissimo poi che sia DCI-P3, copie lo spazio colore DCI-P3, è HDR Pro, HDR 10+, ha un oscuramento PWM a 1920 Hz, il che significa che anche di notte non vi dà fastidio, luminosità minima e luminosità massima, ok, però per esempio non siamo davanti ad un display che spacca, non è un display migliore in assoluto. Se lo guardo sotto la luce diretta dal sole e lo metto a confronto poi con tutti gli altri top che ho avuto e tra l'altro ho ancora modo di avere qui con me, in studio, beh, non è un display che fa la differenza, siamo più o meno lì sotto i veri, veri top e anche magari leggermente sotto, ma comunque mi ha permesso di vedere tranquillamente e leggere tutte le notizie sotto la luce del sole diretta, ma soprattutto quello che mi ha colpito e poi il suo comportamento quando l'ho utilizzato normalmente in casa, quando comunque l'ho utilizzato magari per ritoccare qualche fotografia, è un display veramente, veramente curato e curato bene. E questo secondo me è un aspetto che lo differenzia, che me l'ha fatto piacere tantissimo, nonostante, vi ripeto, non si possa definire il miglior display in assoluto. Abbiamo poi un comparto hardware da primo della classe, uno Snap 8 Gen 2, il miglior processore che abbiamo attualmente in commercio, ben 12 GB di RAM DDR5 e le memorie da 512, unico taglio, sono UFS 4.0. Quindi anche sotto il punto di vista delle prestazioni, nulla da dire, un bel telefono che si è sempre comportato in maniera perfetta, è sempre stato rapido in ogni situazione, non ho avuto bug su riscaldamenti particolari, quindi super affidabile. Questo per me era la cosa che contava, è la cosa che conta in un telefono. E quindi se l'ho ottenuto con me per mesi, ha superato, tra virgolette, anche questo, passatemi il termine, ostacolo. Una cosa però, un difetto, che lo rende non perfetto, è la batteria, perché c'è una 5000 mAh e rispetto ad altri telefoni con processore Snap 8 Gen 2, è uno di quelli che comunque la fa durare un pochino meno. Nei miei test e nei miei lunghi giorni di utilizzo, è stato veramente difficile arrivare a fare 7 ore. Tipicamente mi sono fermato alle 5 ore e mezza, 6 ore. Queste sono le autonomie classiche che ho constatato nel mio utilizzo, appunto, ma ripeto, di mesi e mesi, con questo Xiaomi 13 Ultra. D'altro canto però, devo anche con onestà intellettuale tenere conto che quando prendi in mano uno Xiaomi 13 Ultra, è veramente, veramente difficile che passi un giorno senza che inizia a scattare 10-20 foto. E quindi, se iniziate a utilizzare l'app fotocamera un po' con tutti i telefoni, l'autonomia ne risente parecchio. Però, insomma, non è un telefono che si esalta per autonomia, questo probabilmente un po' per ottimizzazione e un po' anche per il display, che è vero, io non l'ho definito il top, ma è un display un po' unico per caratteristiche, quindi quello, secondo me, consuma parecchio, ma è un po' anche l'unica ragione per cui, mi viene da dire, anzi, ho constatato che questo Snap 8 Gen 2, messo su questo telefono, è quello che dura un po' meno. D'altro canto, però, abbiamo una batteria, abbiamo anzi una ricarica che è degna di questo nome, perché abbiamo una turbo ricarica da 90 W, che in 30 minuti mi permette una carica completa. E in più abbiamo una ricarica wireless che arriva a ben 50 W. Tra l'altro, turbo ricarica, 90 W, che è inclusa in confezione, come è inclusa in confezione anche una coverina. Una coverina un po' cheap, in plastichina, che non dice granché e che, tra l'altro, in questi mesi ho anche proprio rotto, o un po' rovinato su un fianco, ma, insomma, capite che con una coverina del genere e il costo del terminale, insomma, potevano mettere qualcosa di meglio, però, insomma, bene che almeno ci sia tutto il comparto di ricariche. Passando alle connessioni, invece, abbiamo una connessione wireless perfetta, Wi-Fi 7, ricezione ok. D'altro canto, però, abbiamo delle velocità, più che altro, proprio delle velocità, non riferito alla, quindi alla ricezione vera e propria. Abbiamo delle velocità in 4G+, perché è come io utilizzo i telefoni, che sono leggermente inferiori, diciamo, alla norma. In che senso? Purtroppo, in questo Xiaomi 13 Ultra, dato che hanno fatto un adattamento della versione asiatica, mancano alcune bande, in realtà, non mancano le bande importanti per farlo funzionare qua, ma mancano alcune bande che sono quelle utilizzate negli aggregamenti. Cosa significa? Che fondamentalmente è un telefono che prende molto bene, ha una ricezione migliore di, per esempio, i Google di vecchia generazione, ma anche di quelli di nuova generazione, di gran parte dei Samsung, ma le velocità massime non sono granché. Appunto, proprio per questa ragione, che fa un'aggregazione delle bande che è inferiore rispetto ad altri top di gamma. Come vi ho detto, comunque, la ricezione è perfetta, non ho alcun problema, però dovete tenere conto di questo, appunto, per ricordarvi di quanto sia un terminale imperfetto, ma, ripeto, poi nell'utilizzo mio quotidiano, non ho notato differenze di ricezione di segnale così importante, da non permettermi di navigare, da non permettermi di fare le cose che facevo con qualsiasi altro telefono. Oltre a queste cose, poi benissimo, altre connessioni. Abbiamo, per esempio, Bluetooth 5.3, ma che supporta l'LDAC, l'HDC 5.0, quindi perfetto. Il GPS in più è fenomenale, il miglior GPS tra quelli che ho provato insieme allo Zenfone 10, davvero perfetto, anche nelle svolte improvvise, e so che può essere banale, ma in questi mesi l'ho utilizzato spesso anche per il GPS, ed è veramente uno dei più performanti sotto quell'aspetto. Oltre a questo, poi, c'è il sensore di prossimità, che per fortuna è fisico, funziona abbastanza bene, però non è il migliore, ma insomma, almeno non ho avuto i classici problemi con tutti gli Xiaomi. Sensore di sblocco, invece, con impronta, che è ottimo, sempre preciso, perfetto, vibrazione altrettanto fantastica. veramente la miglior vibrazione tra tutti gli smartphone che ho provato, perché innanzitutto è aptica, è secca, non ha la coda, non è rumorosa, ma è bella potente, quindi riuscite a sentirla sempre. La miglior vibrazione su uno smartphone, questo Xiaomi 13 Ultra, insieme anche allo Xiaomi 13 Pro. quindi capite che anche lì è uno di quei motivi, di quelle piccole cose, insieme a poi tutte le altre che vi ho raccontato, che me l'hanno fatto ritenere il miglior smartphone del 2023. Oltre a questo, poi, bisogna parlare del comparto fotocamere. Ragazzi, qui abbiamo quattro fotocamere che sono top, e quando dico top, intendo realmente top, ed è questa poi la grande differenza rispetto a qualsiasi altro telefono, perché tutti gli altri telefoni che potete comprare, anche quelli top di gamma, hanno magari una main camera fantastica, oppure hanno il 10x, però hanno un ultrawide un po' pessima, oppure hanno un'altra fotocamera, insomma, che non va bene. Qua no, ragazzi, qua finalmente abbiamo il sensore principale, che è il miglior sensore al mondo in questo momento, e poi gli altri quattro sensori sono tutti uguali, ma sono tutti sensori top, il che significa che finalmente, con un telefono, posso prenderlo, scattare in ultrawide, scattare in 3,2x, scattare in 5x, con la sicurezza di avere una qualità che è la migliore qualità che potete pensare su un telefono in questo momento. Però è pieno di difetti, e quindi sì, purtroppo, la fotocamera frontale, che è da medio di gamma, veramente, è un peccato. D'altro canto, in questi mesi, ho imparato a sfruttare molto di più questo, cioè girare il telefono e scattarmi la foto con il sensore principale. Ma questo perché mi permette, il sensore principale, di avere foto che non sono paragonabili. Cioè, questo telefono è, insieme al 13 Pro, è l'unico telefono che è global, quindi a parte il vivo, che è un discorso appunto proprio a parte, è l'unico telefono che mi permette di fare foto con un sensore fantastico, che è questo Sony. Un sensore che, in tutte le circostanze, si comporta benissimo, che ha un effetto sfocatura naturale, che è unico, praticamente. Un MX989, che con la sua apertura focale, poi 1.9, permette ottime, eccezionali foto, anche di sera, nonostante il software Xiaomi non sia il migliore in assoluto, ma è un sensore principale eccezionale. Per non parlare, come vi ho già detto, dell'ultra grandangolare, 50 megapixel anche quella, IMX858, una ultra grandangolare, che semplicemente è fantastica, ha zero, praticamente zero difetti ai bordi, in tutte le circostanze, anche di sera, permette foto ottime, davvero ottime, e in più, ci aggiungiamo un 3.2x, che anche questo, è tra i migliori in assoluto, nel mercato. Stesso sensore della ultra grandangolare, e in più ha anche la possibilità, di una macro abbastanza vicina. Non arriviamo al livello della tele macro, dello Xiaomi 13 Pro, ma comunque permette delle macro fantastiche. Zoom 5x, che vi devo dire, sensore top anche quello, e anche qui l'ho messo a confronto, per esempio, 5x con il 10x di altri telefoni, e alla fine un 5x ottico più ibrido, per arrivare al 10x, ma alla fine, grazie al sensore, grazie all'ottimizzazione delle lenti curate, insomma, mi ha permesso, di avere foto, che sono assolutamente paragonabili, a volte migliori, anche, del telefono, insomma, che ha il 10x, per ottico fisico, insomma. Un telefono, quindi, che a livello foto, è fantastico, davvero fantastico, in tutte le circostanze, e ve lo dico, perché, ho avuto modo, e ve lo ripeto, di avere in contemporanea, tutti gli altri telefoni, di quest'anno, e lo so che poi ci sono chi ha li avuti, avrà un'opinione contraria, ma dovete provarlo forse un po' di più, dovete averlo per mesi, portarvelo in vacanza, scoprire magari che quando siete davanti a un palazzo, potete usare l'ultrawide, fare la vostra foto, ma poi avete, mi viene in mente la bandiera che ho fotografato in Grecia, l'avete, il 5x è perfetto per fotografare la bandiera, vi viene perfetta quella bandiera, senza il minimo movimento, senza la minima aberrazione cromatica, senza lens flare, ecco, tutte queste cose, vanno provate, ma riuscite a scoprirle, nel corso del tempo, e tutto questo, mi fa dire che sì, questo per me, è il miglior telefono in assoluto, per fare le foto, d'altro canto però, non va bene per i video, e voi direte, ma Daniele, tu che fai video, mi dici che è un telefono, che non va bene per i video, è vero, è vero, non è che fa video eccezionali, d'altro canto però, sapete che io a fianco, ho sempre in tasca, un iPhone, qui in 14 prima, 15 adesso, ma che per i video, è imbattibile, ma è imbattibile, per un qualsiasi telefono, Android, e per fare i video, se devo farli al volo, e non ho la telecamera, che mi sta riprendendo in questo momento, so che userò un iPhone, quindi, lo vado già di per sé, per me, a scudere dei video, ma poi dipende da voi, se li fate o no, i video, insomma, dovete tenere conto un po' di tutto, vi dico, con tutta sincerità, non potrei neanche star qui, a raccontarvelo, come se volessi vendervelo, questo Xiaomi 13 Ultra, perché a tutti gli effetti, è praticamente introvabile, da qualsiasi parte, non troverete il link qui sotto, magari vi metterò quello del 13 Pro, che è quello che ci si avvicina di più, ma è incomprabile, quindi, non sono qua per cercare di venderlo, ma sono qua, semplicemente, per dirvi, per raccontarvi, la mia esperienza, con questo telefono in tontale, trasparenza, che non sono riuscito a vendere, effettivamente, è capitato, tante volte, che lo prendevo in mano, dicevo, lo uso l'ultimo giorno, e poi lo metto in vendita, e non è mai successo, perché facevo una, due foto, penso veramente, scusate, vado indietro con i ricordi, quando sono andato, in visita, dove ero a Siracusa, avevo con me altri telefoni, ho scattato qualche altra foto, con altri telefoni, che erano comunque top, perché all'epoca, non mi ricordo cosa avevo, ma probabilmente avevo un iPhone, un Honor, e poi ho preso in mano, lo Xiaomi 13 Ultra, e è cambiato totalmente, il livello delle foto, pazzesco, wow, spero di poter farvi vedere, in questo momento qualcuna, ma ragazzi, le foto, che ho fatto, nel mercato del pesce, sono foto da documentario, cioè sono pazzesche, non sono foto, che riuscite a fare, con altri telefoni, quindi, insomma, se il vostro focus, sono le fotografie, Xiaomi 13 Ultra, è imbattibile, ma ecco, quello che mi è piaciuto, che non ha, difetti così gravi, come altri telefoni, che mi hanno spinto, poi magari, gli altri che ho, a venderli, o a lasciarli lì, che si scaricasse la batteria, ecco, no, con un Xiaomi 13 Ultra, questo non è successo, perché poi, tutto il resto, è vero, ha dei difetti, per alcuni anche gravi, per esempio, il software, a molti non piace, sono prima a dirlo, che le Ami UI, purtroppo, a me una volta piaceva, nel corso del tempo, hanno fatto un mezzo disastro, tra l'altro, sono proprio scocciato, e questo lo aggiungo, tra tutte le cose, tra tutti i difetti, che ha questo telefono, sul fatto che, Android 14, hanno già previsto, anzi, sullo Xiaomi 13 Pro, se non sbaglio, è già arrivato, mentre Xiaomi 13 Ultra, ancora niente, non capisco il perché, questo dovrebbe essere, la punta di diamante, e la stanno trascurando, comunque, vabbè, sono arrivate le pezzi di sicurezza, di ottobre, dettaglio, ma insomma, non ha difetti importanti, e ha alcune cose, che sono realmente, realmente uniche, questi sono un po' tutto il racconto, che vi ho fatto su, Xiaomi 13 Ultra, molto diverso dal solito, adesso basta, tutti i video diversi, sono quasi finiti, ne manca ancora qualcuno, ma insomma, era giusto concludere un po', perché tanti lo aspettavano, concludere con una chiacchierata, su Xiaomi 13 Ultra, visto che ormai, stanno arrivando anche i 14, beh ragazzi, se questo video vi è piaciuto, io come al solito, vi invito a lasciare un like, ad iscrivervi al canale, a seguire il canale Telegram di Litec, e se vi va, noi ci vediamo, ad un prossimo video, una buona giornata da Daniele Pintus.